Ok, in piedi a qualità, in piedi a qualità Buona tomba, dai! Ok, ok, dai! Giochiamo con la palla in mano, dai! E' bene, non faccio più! Facciamo! Facciamo! No, non starebbe a risultarli bene e metterla in più. Danilo! No, che c'è la sfida. 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 Non toccarevi troppo. No, che c'è la sfida. 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 Buon appetito. Buon appetito. No, che c'è la sfida. 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 Vai Marcio! Dai raga! Vai coppa dai! Orge entrate! Orge! Orge cammina qui entra dai! 1, 1, 1! Buttati! Buttati! Arbitro! Arbitro c'è un cambio! Aspetta fermo Sociu! Cambio! Forza raga! Cambio! Esce 2! Sanzi! Buttati! 21! Aggressivi! Aggressivi! Stai! Scusate! Questa 2! Arbitro c'è l'unico! Arbitro c'è l'unico! Esce! Pazzo! Quate! Esce 1! Outstep! Geniere! Geniere! Esce! Arbitro! Un'altra sostituzione! Arbitro c'è l'unico! Arbitro! Arbitro c'è l'unico! Arbitro c'è l'unico! Allora! Allora! E' primarine! Dio sui due sono tutti! Sono tutte primarine! Lo segnate! Dai San Marino! 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 Jorge! Lo has visto? Si tu vienes a tocar la prima linea! Ah si si! Si prendo male un po' Si prendo male un po' Dai San Marino! Guarda! 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 Compagno! Qui fuori! Nizza! Qui! Scusi eh! Io l'ho sostituito ma era fuori per posto! Vien to' Guarda! Chiogio! Stai! Che preto! Vien! 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 Grazie a tutti.